Ciao a tutti ragazzi, qualche secondo di ritardo, benvenuti nel gruppo Coaching Italia, benvenuti ai vecchi iscritti, ai nuovi iscritti, le persone che sono entrate in questi giorni. Consiglio, mentre arrivano un po' di persone vi do un consiglio, soprattutto se siete qui dopo esplorate il gruppo. Ci sono tantissimi contenuti passati nel gruppo, tantissimi video, tantissimi post interessanti, esploratelo, cercate, magari per parola chiave, c'è il box cerca e potete magari cercare per argomento. Ci sono tanti tanti video, ci sono due mini corsi completi, principi di performance e altri due forse, altri due corsi. Mini corsi neanche tanto mini, nel senso che complessivamente sono circa 3-4 ore di formazione all'interno di questo gruppo, quindi cercateli e guardateli. voce non al massimo oggi, ancora un po' di allergia. Di che parliamo oggi? Beh, l'ho anticipato nel post precedente. Fare, implementare è sempre maggiore di inventare. È un'idea un po' provocatoria che voglio darti oggi, ma è un'idea centrale nel lavoro di trasformazione personale che facciamo e di coaching che facciamo. Conosco tantissime persone, clienti privati del coaching uno a uno, persone che partecipano ai corsi, che hanno questa idea fissa di svoltare attraverso un'idea geniale, inventando qualcosa di nuovo, creando qualcosa che non è mai stato fatto prima. Il nuovo Facebook, il nuovo Google, il nuovo iPhone, no? Questo tipo di cose qui. Questo approccio, una cosa che non si è mai vista. È tutto molto interessante, rispetto molto le idee di tutti, però devo dirti che nel mondo del lavoro, nel mondo professionale, se sei qui per lavorare su aspetti professionali, di miglioramento professionale, non è l'unica cosa per cui può essere usato il resonance, il coaching, ma gran parte dei miei clienti sono persone che vogliono lavorare su un miglioramento professionale. Sono sempre alla ricerca di questa novità, di questa idea che li farà svoltare l'arma di fine di mondo che cambierà totalmente la loro vita da un giorno all'altro. È l'equivalente del privato, non dell'imprenditore, non del professionista, è l'equivalente della vincita alla lotteria. Può avvenire ovviamente, ma che è qualcosa di altamente improbabile. Quello che conta davvero, davvero tanto nel mondo professionale non è tanto l'idea che rivoluziona, l'idea che cambia, l'idea che non si è mai vista prima, quanto la capacità di implementazione. E la capacità di implementazione è qualcosa che è molto più complicata da perseguire. Per un motivo, l'idea geniale è qualcosa che ti arriva in un istante, è qualcosa che tutto sommato non richiede neanche tanta fatica. Tu stai lì sotto la doccia a leggere un libro, passeggiando per la strada e ti arriva l'idea geniale che rivoluziona il mondo, qualcosa che fondamentalmente non controlli. Ed è un'illusione. Non è perché non può arrivarti l'idea geniale, non perché non possa arrivarti, ma perché sperare e aspettare l'idea geniale fondamentalmente ti libera dalle responsabilità di dover fare qualcosa. C'è questo anche, c'è di più. Che l'idea geniale, se anche ti arriva, va comunque implementata. Il mondo non è di quelli che hanno l'idea geniale, ma di quelli che riescono a costruire dei processi di implementazione che le fanno funzionare. Personalmente ho avuto, prima che avvenissero una serie di rivoluzioni tecnologiche in questo mondo, e non sto scherzando, a 25 anni avevo avuto un'idea che era molto simile a YouTube, che era molto simile a Facebook, che era molto simile a... o a prodotti che avevo, innovazioni che poi abbiamo visto tutti avvenire nel mondo tecnologico, della parte come dire, di prodotti disponibili di massa. Il punto è che non li ho implementati, il punto è che non avevo l'istrume, non sapevo neanche da dove partire. Era un'idea che mi era scesa dall'iperuraneo, una genialata, una botta di qualche neurone che si connetteva in quel momento, che mi ha fatto vedere cosa avrei potuto fare. Il problema è che non l'ho fatto, perché non sapevo neanche da dove partire, perché servono soldi, perché serve saper, come dire, saper fare, trovare le società che costruiscono quel tipo di infrastruttura, di piattaforma tecnologica, eccetera, 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 eccetera. Tutti abbiamo idee geniali tutti i giorni, avere idee geniali non costa niente, serve la capacità di implementare e quella costa. Quella costa non tanto soldi, quella costa la capacità di mantenere l'attenzione su qualcosa e mantenere l'attenzione non è questione di disciplina. È questione di saper mantenere l'attenzione su qualcosa e di trovare dei processi che fanno funzionare qualcosa. Questo è qualcosa di molto più complesso, qualcosa di molto più sforzante dal punto di vista proprio del sistema nervoso, proprio dal punto di vista neurocognitivo, perché è qualcosa che deve succedere tutti i giorni. Avere la capacità di mantenere l'attenzione su qualcosa, qualcosa che si costruisce e qualcosa a cui non siamo più abituati. Noi abbiamo una grandissima capacità di portare l'attenzione su ciò che non vogliamo, su ciò che non funziona, sul problema, come scrivevo nel post di poco fa. Abbiamo una scarsissima capacità ormai di portare l'attenzione su ciò che vogliamo, su ciò che funziona, su ciò che genera di piccoli cambiamenti. E questa è un'abilità che va recuperata. È molto più possibile ottenere importanti risultati economici, importanti risultati professionali su piccole cose che funzionano bene, piuttosto che con grandi idee che non riusciamo ad implementare, perché non abbiamo una struttura operativa e mentale che riesce a farle funzionare. Abbiamo tutti questa mitologia della grande idea, del grande progetto, dell'impero che riusciamo a costruire da un giorno all'altro, magari senza fatica, grazie a un'idea geniale, piuttosto che la capacità e l'idea che sia possibile far funzionare una piccola cosa con piccoli risultati, ma con piccoli risultati comparati a quelli di Mark Zuckerberg o di Sergey Brin, che sono i CEO di Google e di Facebook, ma che comunque per noi, rispetto a dove siamo, sarebbe un grande cambiamento. Ecco, forse la parola chiave in questa, la summa di tutto il discorso è piccoli cambiamenti, che poi tanto piccoli non sono, se ti confronti a dove eri un anno fa, due anni fa, cinque anni fa, dieci anni fa. Personalmente lavoro sempre con questa idea di guardare dove ero ieri, guardare dove ero un anno fa. E non solo dal punto di vista economico, ovviamente, ma anche dal punto di vista personale, anche dal punto di vista di qualità della vita, anche dal punto di vista della qualità delle relazioni, delle frequentazioni, delle amicizie che ho, delle cose che succedono, delle esperienze che ho, delle cose che succedono nella mia vita. E se ti guardi indietro e inizi a lavorare su dei piccoli cambiamenti di questo tipo, scoprirai che piccoli non sono, prima cosa, e scoprirai anche che è molto più facile raggiungere risultati importantissimi, cumulando dei piccoli cambiamenti in maniera stratificata, in maniera composta, in come funzionano gli interessi composti, piuttosto che sperare nella botta di culo, nel cambiamento immediato, nella rivoluzione che da un giorno all'altro cambierà la tua vita. Questo è il concetto di trasformazione e ti assicuro che se riesci ad entrarci dentro, riesci anche a vedere come da qui, in breve tempo davvero, riesci a generare risultati impensabili che mai ti saresti sognato e ti saresti aspettato di avere in un tempo così breve. Quindi è un'illusione la lentezza, quando si va lenti, si va anche molto più lontano e molto più veloci. Ma devi avere una struttura cognitiva per saperlo fare, per saper ottenere l'attenzione che ti serve per andare in quella direzione. Io ti invito a sperimentare il primo marzo un approccio a questo tipo di trasformazione personale, a questo tipo di risultati che è possibile di ottenere la sua vita in maniera molto concreta. Niente teorie new age, niente legge di attrazione, niente fisica quantistica o pseudo quantistica. Tutte cose, come ho scritto prima, davvero interessanti da un punto di vista di romanzo, di storytelling, ma che sono poi forse di scarsa applicabilità, di scarsa misurabilità dei risultati nel tempo, in un tempo ragionevole. A me piace molto l'idea di fisica quantistica con cui è possibile risuonare con le cose, c'è da dire che è abbastanza difficile poi fare in modo che questa cosa dia dei risultati tangibili, perlomeno in tempi ragionevoli, non so come dire, non li ho visti e non li ho mai visti accadere per le persone con cui lavoro. L'idea è un'altra, l'idea è quella di accedere a una configurazione cognitiva che ti permette di essere nel mondo e di iniziare a lavorare su ciò che funziona, a percepire non il problema, ma a far funzionare quello che il problema non è e a espandere da quel punto lì, a espandere da ciò che già funziona bene nella tua vita, nel tuo lavoro, nella tua relazione, nel business. Se riesci a farlo, riesci davvero a trasformare la realtà e non cambiarlo, ma trasformarla, riesci a partire da un nucleo di cose che già vanno bene e a far funzionare bene anche le altre cose partendo da quelle, ma non risolvendo problemi, facendo funzionare invece meglio ciò che già funziona. Ed è un cambio di paradigma totalmente trasformativo perché non avviene nella tua testa, non è qualcosa a cui pensi, è qualcosa che parte da un sentire prima che da ragionarci su. Ed è qualcosa che funziona per imprenditori, per persone, per pianisti, per musicisti, per sportivi di livello altissimo, per attori. È qualcosa che davvero cambia totalmente le aspettative che hai rispetto a ciò che succederà. ti aspetto con una voce molto migliore di quella di oggi, il primo marzo a Milano, per introdurti a questo tipo di lavoro, che è sottile, è molto bello, è molto elegante, ma è anche molto efficace. Lavoreremo in un piccolo gruppo, non faremo grossi, come dire, non è un evento da mille persone, dove c'è casino con il max di schermi, lavoreremo, ci sarà tanta interazione, ci sono anche possibilità di interagire con me e vedrai all'opera un lavoro davvero, davvero, davvero trasformativo che probabilmente per la prima volta, se non hai mai assistito a un resonance, per la prima volta nella tua vita ti farà vedere come si ottengono davvero risultati migliori. Ti aspetto il primo marzo, ti metterò il link qui sotto nei commenti o nella struttura del post, comunque il link è www.resonancestart.com, te lo scrivo fra poco qui. Buona giornata, ciao!